Un secondo tempo sontuoso per qualità e sostanza, il Chietis banca in Rivela delle Palme battendo in rimonta per due reti a uno la Sambra elettese grazie alle marcature di Vaccaro e Paglia. E' festa grande con i 200 supporters nero-verdi ma riavvolgendo i nastri esordio per l'attaccante italo-sloveno Bordon nell'undici di partenza di Mister Chianese in edito 3-4-3. La Sambra del neotecnico Manoni si presenta con Marras, Falzonove, Cardella e Vita ai suoi lati. Primi dieci minuti bloccati con le due formazioni che lottano lungamente a centrocampo per poi accendersi al quarto d'ora. La prima occasione per il rosso-blu piazzato di Angiulli, il colpo di testa di Zaffagnini non trova la porta. La pronta risposta del Chieti, la sponda di Bordon sulla lunga rimessa di salto di Prisco. Cerca il bandolo della Matassa Campazzo, però segnala un fallo in attacco. La Sambra alza il baricentro, gli frutti vengono subito raccolti. Errore in impostazione del Chieti, Viscardi si scatena sulla destra. Selve al centro Vita che con il mancino batte Serra e iscrive l'1-0. La reazione del Chieti, quattro giri di lancetta e più tardi paglia tra le linee per Di Meo dai 30 metri. Tiro alto sulla trasversale, Chieti e Sambra sparano le ultime cartucce della frazione alla mezz'ora. Prima Marras buca da buona posizione, poi è Mercuri a trovare a gioco fermo la risposta sulla linea della difesa rosso-blu. Con immagini e montaggio di Mario Giacchetta scoppiettante l'inizio della ripresa. Spinelli al secondo, centra la traversa esterna da posizione impossibile. Poco dopo contropiede, tre contro due della Sambra Neltese. Vita e Marras accompagnano l'azione ma è clamoroso l'errore di Cardella che centra salto in ripiegamento difensivo. Chianese si gioca le carte Liepa, Riosa e Masavud. Mercuri in contropiede, trova la risposta in due tempi di Berti ma ad essere determinante. E Vaccaro che riscatta l'opaca prestazione e con il destro trova incrocio e pareggio con il copione della gara che inevitabilmente cambia. La Sambra abbassa il baricentro e cerca di sfruttare le ripartenze e ora il Chieti a fare la partita. Quel che succede al 33esimo ha del clamoroso il break di Mercuri con il seguente tiro dal limite dell'aria con il pallone che si stampa sulla traversa per poi rimbalzare. E lo diciamo a beneficio ovviamente delle immagini all'interno della porta ma il primo assistente cantatore ed il direttore di gara Campazzo non assegnano il vantaggio del Chieti tra le numerose proteste nero-verdi che porteranno all'espulsione di Mr. Chianese. I teatini non si perdono d'animo, continuano ad attaccare dal 43esimo, arriva la chiave. Mancini si interpone tra difensore e portiere, si libera al limite dell'aria piccola con Berti che lo stende per Campazzo e penalti del dischetto. E' glaciale paglia, Berti in cercetta ma non può nulla, 1-2 che manda in visibilio il settore ospiti. Sei minuti di recupero ricchi di nervosismo, l'intervento del Rosetano Lulli viene sanzionato con il rosso, si alza la contestazione dei tifosi della Samb nei confronti del presidente Renzi ma di tempo non ce n'è e dunque Chieti sbanca il Riviera delle Palme. Da San Benedetto finale, San Benedettese 1, Chieti 2. Grazie.